Mista partita bloccata, che la provate ha cercato di sbloccare anche nel finale tra stanchezza e acciacchi, comunque un buon punto. Ma no, abbiamo provato dal primo minuto a giocarla, ci abbiamo provato con tutto quello che avevamo. È stata una partita a tratti ingiocabile, su un campo ingiocabile, quindi ne escono queste partite spezzate di ritmo. Ci abbiamo provato, quindi abbiamo messo in campo tutto quello che sono le nostre forze in questo momento qua. Abbiamo salvaguardato parecchi acciacchi da sabato. Ne usciamo anche con qualche problema fisico, però è un buon risultato, andiamo avanti. Tante volte hai detto che guardiamo anche all'andata di migliorare i nostri numeri. Anche queste due partite, tra Como e Pro Sesto, la propata sta già migliorando i numeri. Sì, noi siamo a più 5 dall'andata in questo momento qua. Ripeto, noi sapevamo che tipo di partita ci aspettava, ci siamo preparati, l'abbiamo fatta bene. Chiudiamo questa pagina e andiamo avanti. Pro Sesto che si è chiusa moltissimo, è stato difficile, soprattutto nel primo tempo, ma anche poi nel secondo trovare spazi centrali, ma anche allargare sulle fasce. Sì, ci abbiamo provato con tutto quello che si può fare in questi casi, quindi cercando un po' di allargare il gioco. Si faceva fatica a muovere la palla perché è un campo, secondo me, brutto, quindi si fa fatica a giocare. Abbiamo provato un po' a forzare la profondità, seconda palla. Ci abbiamo avuto qualche occasione, queste partite o le sblocca qualche giocata individuale, se no finiscono 0-0. Stagione lunga e difficile, con tante partite ravvicinate, nel momento in cui la profonda stava occupando qualche giocatore oggi a Pezzo Saporetti. Sì, è così, perché è veramente ad alto rischio di infortuni questo tipo di calendario. Ci dobbiamo adattare, cercando di mettere in campo sempre delle squadre che hanno un suo senso, in maniera intelligente. Cercando anche di salvaguardare quello che è la salute dei ragazzi perché in questo momento qua è veramente molto facile farsi male. Diventa quasi più importante il riposo quando c'è un tre partite una settimana che l'allenamento. Assolutamente sì, così ne abbiamo un'altra domenica, dobbiamo recuperare tutte le forze. Poi abbiamo un'altra settimana da preparare per un'altra settimana da 9 punti, quindi bisogna stare sul pezzo e pensare dalla giornata a giornata, cercando sempre un giusto equilibrio.